Mentre un closer ad alto impatto sa benissimo che le risposte non abbiamo un budget o non abbiamo idea sono prevedibili in un incontro di vendita, perché molte aziende e privati utilizzano spesso questa risposta per non esporsi, ma soprattutto sa che per avere una sana relazione professionale con i propri prospect ed essere percepito come un professionista capace e autorevole deve capire se questi sono in grado e disposti a investire nei suoi prodotti o servizi prima di preparare una proposta.